Il teatrino dei pupi Il fatto che il posto sia quello non è secondario Lo hanno scelto loro Lo hanno arredato, sistemato, ripulito Ma io sta facendo un lavoro straordinario per i suoi fratelli Il lavoro migliore che si potesse fare E soprattutto per Lorenzo Che è senza dubbio più debole di loro Il rompere ora sarebbe devastante Loro non vedono lo squalore che vediamo noi Per loro quel tugurio è la migliore delle case possibili Non città, lo hanno mai avuto Ahi non città, lo hanno scolato Non città, lo hanno scolato Non città! Non città! Il telefono è un tiro Che si un'altro è un minuto Non città! Che se un'altro è un pozzato! Che se unbi! Che si un'altro è un pozzato! Che si un pozzato! Il giorno arriverà, ci troverà superstiti della notte sopravvissuti. La notte sopravvissuti.